Che cosa significa oggi essere comunisti? Che cosa significa oggi essere comunisti? Chi parla male pensa male e vive male, bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa. Aspetti che guardo un attimo qui perché ho un libretto sul pc, questa è la mia professionalità però io di solito mi occupo di sport, mi occupo di sport, lo dice anche. Il suo ambiente è molto... È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Come parla! Come parla!